Musica Buonasera da Marco Capugli e bentrovati con informazioni di Arezzo TV Partiamo con la cronaca, incendio in un'abitazione, grave una donna nella retina è successo a Montevarchi Chiara Sadotti Qui dove siete voi era una palla di fuoco, questo pozzo scale era come se fosse una canna fumaria gigante Le fiamme di oltre due metri uscivano da questa porta e poi il denso fumo a lanciare l'allarme Questa notte sono stati i vicini di casa allarmati dalle urla Ci troviamo a Montevarchi nella centralissima via Roma L'incendio è scoppiato alle 5.30 in una palazzina storica Ho aperto la porta, mi è apparso un muro di fumo davanti e quindi a quel punto sono andato in terrazza Spalancavo tutto, ho preso un panno, mi sono bagnato, mi sono messo di fuori e ho aspettato che venissero a prendermi A un certo punto ho pensato fosse il momento dell'addio A rimanere gravemente ferita una donna di 47 anni a seguito delle fiamme divampate nel suo appartamento Un monolocale dove viveva da sola È stata prima portata all'ospedale della Gruccia, poi elitrasportata con Pegaso al centro grandi uscionati di Pisa Le sue condizioni sono gravi, illesi invece gli altri condomini Resta però il grande spavento per una tragedia sfiorata Sapendo che aveva probabilmente una bombola a propano di quelle per cucinare Cioè il rischio era che scoppiasse tutto l'appartamento e tutto il palazzo Ho preso tutti, l'ho portata tutti dalla parte opposta Sul polso oltre ai sanitari dell'emergenza urgenza sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale Nell'episodio si è già interessata anche l'amministrazione comunale Questa persona ha rischiato ovviamente la propria vita e la vita di tutti gli abitanti del condominio Per cui una situazione di questo genere non verrà assolutamente sottovalutata dal comune Ripeto, faremo guerra, lo dico, ai proprietari Non è più accettabile che si possano fare, ricavare delle abitazioni in degli spazi così angusti Quindi sarà una guerra antituguri L'appartamento interessato dal rogo è stato dichiarato inagibile Visti gravi danni riportati dalla struttura Inagibile anche un appartamento al terzo piano Un'altra giornata di manifestazioni La quinta consecutiva al casello di Bettolle Da parte degli agricoltori che non mollano E senza una convocazione da parte del ministro Lunedì la protesta potrebbe infiammarsi ancora di più Grazie a Settimelli Siamo al quinto giorno di protesta degli agricoltori Nella valdichiana retina essenese Il casello A1 di Bettolle è stato nuovamente bloccato in entrambe le direzioni Lo si legge anche nel sito di Autostrade per l'Italia Dove le notizie dei blocchi sono ormai in tutto il paese Dove sono presenti i presidi dei coltivatori Ci tengono però a far sapere che non sono contro nessuno Ma semplicemente a favore dell'agricoltura e del loro lavoro Voi siete contro il governo, contro l'Europa O siete solo a favore dell'agricoltura? No, siamo solo a favore dell'agricoltura Noi siamo 4 ragazzi, 4-5 ragazze Abbiamo aperto questo gruppo, abbiamo avuto questa iniziativa Ma noi stiamo soltanto guardando il nostro futuro Non siamo assolutamente contro il governo Anzi stiamo cercando in tutti i modi di avere un incontro per provare ad affrontare la problematica Ma noi chiediamo cose semplici, non chiediamo un gran tanto Chiediamo però soprattutto l'incontro, almeno l'incontro Per voi è un grande sacrificio questo presidio, perché rimanere qui? Perché vogliamo sperare di ottenere qualcosa Che giustamente abbiamo un sacco di problemi a livello europeo Burocrazia e tutto il resto Vi sentite svantaggiati rispetto al resto d'Europa in Italia? Secondo me siamo sulla stessa barca Alla fine sono partiti prima tedeschi, poi francesi E poi stiamo partendo un po' tutti Perché è un momento non generale secondo me Vi aspettate che vi convochi il ministro, un incontro? Sì, stiamo aspettando questo Altrimenti andremo avanti ad oltranza Anche con manifestazioni più importanti, più pesanti, più eclatanti Diciamo così, insomma ho sentito di Ecco, ovviamente potreste creare degli disagi importanti alla popolazione Ma sentite che la gente è con voi? Sinceramente sembra di sì, che la gente sia con noi Poi, che vi devo dire? Questa è la mia impressione Ma ho visto che c'è tanta adesione Le persone, anche se stanno bloccate in coda per ore Ci applaudono, ci ringraziano Quindi c'è il consenso Anche dei camionisti E oltretutto mi hanno detto che si stanno iniziando a muovere anche loro Non si placa la protesta degli agricoltori Al casello di Bettolle Il corteo di trattori ha sfilato per il quinto giorno di fila Circa 300 i presenti fanno sapere gli organizzatori della mobilitazione E il movimento rischetto agricolo Un serpentone di trattori che occupava per intero la rotonda Davanti all'ingresso della UNO In territorio di Bettolle, comune di Sinalunga In provincia di Siena Nel pomeriggio di sabato si è spostata nell'Aretino Un paio di chilometri sino alle Farniole Nei pressi del Val di Piana Village, comune di Foiano La protesta non è ancora finita Gli organizzatori annunciano per lunedì la partenza verso Roma Quello è il minimo che ci deve ascoltare Minimo Aspettiamo risposte Se no Se no andiamo a Roma Lunedì partiamo per Roma Sicuramente Che i grilli, la farina di grilli La carne sintetica, il latte sintetico Il salmone a 3D se lo mangino loro Perché dobbiamo salvare la nostra agricoltura I nostri giovani che lavorano Che lavorano e pagano le tasse Capito? Dobbiamo andare avanti e non arrendersi E che i cittadini e la popolazione ci vengano in aiuto Bisogna portare alta la nostra voce Difendere i nostri prodotti italiani Ovunque e da tutte le parti Non sarebbe stato un atto a sfondo sessuale Quello per il quale un 35enne cortonese originario di Foiano È stato giudicato dal Tribunale di Arezzo L'uomo accusato di atti osceni e danni di una turista olandese Che stava passeggiando a Cortona L'episodio risale a qualche tempo fa La donna avrebbe incrociato l'uomo nei pressi della scala mobile di Cortona In presenza della figlia minorenne Stando a quanto raccontato alla loro vista Il 35enne si sarebbe esibito in atti osceni La donna a quel punto ha reagito con uno schiaffo Il PM Bernardo Albergotti ha chiesto una condanna Ad un anno di reclusione Di diverso avviso invece il giudice Antonio Dami Che si è pronunciato nel primo pomeriggio di ieri La vicenda sarebbe da considerarsi come una molestia E non un gesto di natura sessuale Quindi l'uomo è stato condannato al pagamento di una multa Uccise il vicino di casa Che stava colpendo la sua abitazione con una ruspa Adesso Mugnai rischia un processo per eccesso di legittima difesa Greta Settimelli Un eccesso colposo di legittima difesa per questo Sandro Mugnai secondo la PM Laura Taddei Dovrebbe andare a processo E' questa la conclusione della procura di Arezzo Al termine delle indagini Sulla morte del 59enne albanese Che a San Polo alle porte di Arezzo Appunto venne ucciso da Mugnai Era l'ora di cena Mugnai si trovava in casa con la moglie Un figlio e altri parenti All'improvviso la casa iniziò a tremare sotto i colpi di un mezzo da lavoro Mugnai accortosi che il 59enne stava colpendo la sua abitazione con una ruspa Uscì di casa armato con una carabina regolarmente detenuta e fece fuoco Prima un colpo in aria Poi quattro diretti verso l'uomo che era alla guida dell'escavatore Uccidendolo Venne arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio volontario Fu però scarcerato perché il GIP Giulia Soldini reputò credibile la versione dei legali di Mugnai Che sostenevano la tesi della legittima difesa Adesso a distanza di oltre un anno dall'accaduto Arriva l'avviso di chiusura indagini della procura Che potrebbe aprire le porte al rinvio a giudizio E questa mattina si è svolta la 29esima edizione della cerimonia di premiazione dei giostratori Nel chiostro di Palazzo Comunale d'Arezzo l'assessore al turismo Simone Cherici Ed il consigliere comunale con delega alla giostra Paolo Bertini Hanno premiato i giostratori protagonisti delle due edizioni della giostra del Saracino E delle prove generali del 2023 alla presenza dei rettori dei quartieri Paolo Bertini ha ricordato la figura di Pier Ferruccio Romualdi Già magistrato della giostra e eraldo all'inizio degli anni sostanta Scompasso in questi giorni La solenne cerimonia è proseguita con la consegna del premio Fulvio Tului Giunto alla non edizione E consegnato al quartiere che ha sfilato meglio nelle edizioni 2023 della giostra del Saracino Per entrambe le edizioni è stato aggiudicato il premio al quartiere di Porta Santa Andrea Sono poi stati premiati tutti i giostratori riserve e titolari Consegnata anche la medaglia raffigurante la dedica dei cento anni dell'Arezzo Calcio All'amministratore delegato della società Amaranto Sabatino Selvaggio Al presidente del museo Amaranto Butti, Stefano Butti E al presidente di orgoglio Amaranto Daniele Farsetti La cerimonia è proseguita con l'assegnazione del riconoscimento alla carriera Quest'anno attribuito a Silvano Gamberi Le prove generali del 2024 saranno corsi a giugno in memoria di Vittorio Farsetti Storico capitano del quartiere di Porta Crucifere A settembre in memoria del professore Giuseppe Pasquini Colonna portante della ginnastica retine nazionale Infine sono state annunciate le dediche delle lance d'oro Che i quartieri si contenderanno in Piazza Grande in occasione delle edizioni 2024 La lancia della giosta di San Donato del 22 giugno Sarà dedicata a Giorgio Vasari nel 450esimo della morte avvenuta nel 1574 La lancia d'oro invece della Madonna del Conforto Che si correrà domenica 1 settembre Sarà dedicata all'ottavo centenario delle stimate di San Francesco Infine sono stati scoperti i tabelloni con i punteggi marcati dai giostratori Che hanno sfidato il re delle Indie nelle due edizioni del Saracino dello scorso anno Approvato a tarda sera il nuovo regolamento asili del Comune di Arezzo Introdotto il discusso criterio dei nonni Ma non è l'unica novità Sentiamo Lucia Tanti, vice sindaco di Arezzo Al microfono di Greta Settimelli Tante le novità in questo nuovo regolamento Iniziamo subito da quella così ci togliamo il dente più discusa Ovvero il criterio nonni La minoranza aveva ovviamente chiesto che venisse eliminato in toto Ma insomma voi siete andati avanti e lo avete approvato proprio con questo nuovo criterio Ma quali sono i cambiamenti? Allora il cambiamento più significativo a mio avviso è l'innalzamento della soglia Ise Da 10.000 a 35.000 euro Per dare a più famiglie la possibilità di manifestare Non dico una criticità economica Ma una situazione economica non necessariamente floridissima Il secondo criterio al quale sono la più affezionata Quello che è un regolamento assolutamente inclusivo Quindi dà alla disabilità un ruolo importante nella valutazione di una condizione familiare Non solo per il bambino e la bambina che era già così Ma soprattutto per i genitori e per la rete familiare Tra cui appunto anche la condizione dei nonni E anche di coloro i quali nonni si possono prendere cura Una zia in condizioni di disagio o qualche altra situazione L'altra parte fondamentale è una focalizzazione molto piena del mondo del lavoro Con tutte le possibilità, con tutte le marginalità che si possono determinare Con tutte le particolarità che si possono evidenziare In quel concetto di conciliazione massimamente inteso Quindi un regolamento che cerca di fotografare la realtà lavorativa in tutta la sua molteplicità E poi in fondo marginalmente mi verrebbe da dire anche la questione nonni Dico marginale perché da Reggio Emilia a Pistoia, da Lucca a Prato c'è Quindi ho trovato che fosse una manifestazione un po' strumentale Che però effettivamente ha fatto mettere un punto Cioè a questo punto si capisce chi considera i nonni parte della famiglia A di là dell'anagrafe e chi invece li considera perché non concorrono all'ISE Non parte della famiglia Questa sì è una posizione politica Ecco, cosa cambia rispetto agli emendamenti? Ne avete discussi veramente un numero importante Ma gli emendamenti alla fine approvati sono stati 16 da parte dell'opposizione Di cui due mi pare dice il Guarezzo Tra l'altro uno molto correttivo in senso positivo Perché proprio nel capitolo nonni individua il nonno o la nonna che è in RSA E quindi in quel caso è evidente che il carico di cura non lo porta Perché è curato in un altro luogo E un altro sempre dice il Guarezzo Sul punteggio da considerare innalzato per i genitori che fanno corsi di formazione Lo ritengo molto utile perché insomma essere più adeguati nel lavoro Proprio preparati, studiare di più è sempre un contributo importante Dopodiché c'è stata una serie di emendamenti 16 vi sembra o 14 del Partito Democratico Che hanno preso in esame invece alcuni punti Se vogliamo di dettaglio però significativi Rispetto al ruolo del coordinamento pedagogico Che peraltro c'era Che anzi trova una sua sostanziale rafforzamento Ma che con queste a volte anche parole Che però portano con sé contenuto Riescono ad andare incontro migliormente A quelle che sono le nostre prerogative Quindi non c'era chiusura Io questo l'ho detto fin dall'inizio Io faccio politica Il dato politico lo stabilisce chi governa Dentro questo dato Tutto ciò che arriva per migliorare non vedo perché no A questo punto entra in funzione? A questo punto entra in funzione velocissimamente Perché io ieri ho poi opposto anche la immediata eseguibilità Che è stata approvata dalla maggioranza 18 a 11 E quindi ora tutti i percorsi sono accelerati Questa mia fretta tra virgolette era dovuta a un eccesso di prudenza Perché volendo ovviamente uscire col bando presto Essendo nuovo quindi avendo anche delle necessarie bisogni Di interloquire con la città C'è poi il tema del nido gratis di Regione Toscana Quindi prima arriviamo Prima facciamo la gradatoria E prima le famiglie possono avere il loro posto in gradatoria E avere poi anche l'opportunità che Regione Toscana dai Che noi abbiamo assolutamente e convintamente accolto Da una piccola banda di paesi a una fiction rive Vi raccontiamo la storia di Martina Una giovane musicista retina Che sogna di entrare in una grande orchestra Greta Settimelli Da un piccolo borgo della Val di Chiana All'orchestra giovanile di Roma Passando per la fiction rive Che ha avuto un grande successo Doc nelle tue mani Con Luca Argentero Martina oggi 21enne Risiede con la sua famiglia nella Val di Chiana a Retina Ed è una giovane musicista La sua passione per il flauto traverso È partita quando frequentava la scuola elementare di Cigiano Frazione del comune di Civitella in Val di Chiana Grazie ad un progetto ideato dalla Proloquo In collaborazione con la banda del paese Ho iniziato a suonare già da piccolissima Infatti andavo proprio in prima elementare E ho iniziato nella scuola di banda di Cigiano E ho iniziato in realtà con il flauto dolce E poi piano piano ho iniziato a prendere in mano Appunto anche lo strumento del flauto traverso Passione è nata proprio iniziando a vedere i primi concerti Che facevano le bande Nei paesi Così quindi Una passione che è nata proprio grazie alla banda Da lì la passione, lo studio e il sacrificio suo e della sua famiglia L'hanno portata a suonare per un anno nell'orchestra giovanile di Roma E poi appunto nella Fiction Doc Proprio l'anno scorso ho avuto l'opportunità appunto di suonare in questa orchestra E abbiamo fatto diversi concerti E in più abbiamo registrato proprio per la serie Doc Nelle tue mani È stata un'esperienza molto bella Molto emozionante E ringrazio appunto per questa opportunità Il sogno di Martina oggi è quello di entrare in una grande orchestra E fare della musica la sua professione Sì certo Proprio il mio sogno è quello di entrare in orchestra E poter suonare Quindi fare della mia passione il lavoro insomma E certo lo studio è ancora tanto Però si cerca insomma di conciliare un po' il tutto Ogni tanto sei anche con gli sbandati di Cigiano Anche perché insomma le bande di paese sono veramente le prime palestre Per chi poi vuole fare la tua professione Sì sì certo È sempre un grande piacere tornare a suonare appunto proprio dove si è iniziato Quindi sono comunque belle emozioni E siamo nel periodo del Carnevale Seconda sfidata domani a Foiano Per il Carnevale più antico d'Italia Seconda ed ultima invece per i figli di Bocco A Castiglionfibocchi Ma c'è ancora tempo per partecipare al concorso fotografico Dopo il successo delle scorse domeniche Tornano anche i corsi mascherati in città d'Arezzo Con l'Orciolaia E nell'Interland a Rigutino Con il Carnevale dei Bambini Chiara Sadotti Carri Trenini ed ovviamente maschere Anche ad Arezzo è tornato il Carnevale Due gli storici appuntamenti nel comune Quello con il Carnevale a Retino dell'Orciolaia E quello con il Carnevale di Rigutino Al Parco Ducci in zona Montefalco È tornato dopo il successo delle ultime edizioni Il Carnevale dell'Orciolaia Con il suo format di spettacoli, musiche e trenini Ed ancora i personaggi preferiti dei più piccini E l'immancabile musica del trio Beppe, Marco e Robi I bambini dell'Arezzo ancora si diverteranno Il Carnevale del Celaia Con tutti questi trenini E tutte le attrazioni che sono state La Croce, la Campoliere Quindi vanno nei trenini E poi vanno a vedere i spettacoli I ragazzi sono veramente tanti Fa piacere Si pensano che siano divertiti E li aspetto domenica prossima Per la seconda giornata Già seconda uscita invece Per lo storico Carnevale dei bambini di Rigutino Una tradizione che va avanti Ormai da mezzo secolo Oltre 50 anni c'ha questo Carnevale E quindi Poi i bambini si divertono come vogliono Possono salire nei carri Fare quello che vogliono In tutta libertà C'è un bel percorso Controllato dal personale Quindi è un bel circuito Ecco Per noi è un grande sforzo Ma siamo riusciti a fare un gruppo Di circa 40 persone o più Che ci danno una mano e tutto E siamo soddisfatti Oggi abbiamo il gruppo Della banda di Castiglione Fiorentino E domenica prossima Non avremo intrattenimento Ma faremo un concorso A livello di maschere Con tema Barbie e Super Mario E l'ultima domenica Avremo una ragazza Che viene da Firenze Sui trampoli E farà vari spettacoli Nell'arco della giornata Volevo fare un ringraziamento Quest'anno ai ragazzi Del Sangrea Party Di albergo Che sono venuti Per farci Per provare Questa nuova cosa Sulle ciacce fritte E collaborando con noi Speriamo che sia una cosa Che magari in futuro può andare Si era sposato con la sua Emanuela poche settimane fa All'interno dell'Hospice di Arezzo Un sogno che si era avverato E' scomparso Serafino Mammoli Volontario della misericordia Di Arezzo Un vuoto Difficilmente colmabile Si è creato Questa mattina Nella nostra associazione Scrive La misericordia di Arezzo Dovuto alla perdita Del caro confratello Serafino Mammoli Volontario della misericordia Con lui Fino a qualche mese fa Abbiamo condiviso Tutto quello che poteva essere Condiviso Tra persone Animate Dalla stessa passione Che è quella di essere Volontari Della misericordia Volontari impegnati Ogni giorno Nei servizi di assistenza E soccorso A chi Alla misericordia Si rivolge per bisogno In questo Serafino Era un grande E per questo Il vuoto Che lascia Tutti noi E' grande Passiamo all'ampia pagina Sportiva Cominciando Dall'Arezzo Calcio Lega Pro Domenica 4 febbraio Alle 18.30 Andrà in scena Il match Arezzo Virtus Intella Senza il tifo Della curva Sud Minghelli La partita E' valida Per la 24esima Giornata Del Girone B Da una parte L'Arezzo Che arriva Alla sfida Dopo aver perso Le ultime due partite Di campionato Contro il Pescara Per 2 a 1 E contro l'Olbia Per 1 a 0 Succombendo Alla rete Di De Sena La scorsa settimana Dall'altra Il Virtus Entella Che non perde Dal 19 dicembre Quando La Juventus Next Gen Espugnò Lo stadio Dei Bianco Celesti Per una rete Zero Nelle ultime Tre gare I Liguri Hanno pareggiato Altrettante gare Contro Vispiesero Sestri Levanti E Pineto Per la gara Di domenica Ci sarà L'arbitraggio Del signor Giuseppe Macera Della sezione Di Palermo Quadruvato Da Ayub El Filali E Matteo Gentile Mentre Il quarto uomo Si fa per dire Sarà Alice Gagliardi Gli amaranto Di Paolo Indiani Scenderanno In campo Con il 4 2 3 1 Tre pali Andrà Trombini Terzini Saranno Donati Montini Con Chiosa E Risaliti Che completeranno Il reparto Centrale In mediana Stazioneranno Bianchi E Dechio Con Gaddini Guccione Patterello Invece Sbarieranno Tra le tre quarti Alle spalle Di Gucci Negli ospiti Invece Fabio Gallo Schiererà I suoi Con il 3 5 2 In Porta De Lucia Mentre Tridente Difensivo Sarà Composto Da Bonini Portanova E Manzi Le fasce Saranno Affidate A Zappella Di Mario Con Lipari Corbari Peterman Che stazioneranno Al centro Del centrocampo Tandem Offensivo Affidato A Tamaselli E Montevago E Da Riguardo Della partita Di domani Senza Tifosi Abbonati Della sud L'Arezzo Calcio In un Comunicato Ha espresso Il suo Disappunto Sulla Severità Del giudice Sportivo In quanto Il comportamento Di un singolo Nella gara Di Ancona Ha prodotto Conseguenze Dannose Per un numero Di persone Immensamente Superiore Inoltre La società Ha sottolineato Come sia Fondamentale Il rispetto Delle regole Delle istituzioni Sportive Delle decisioni Da queste Assunte Infine Leggiamo Testualmente Vogliamo Quindi Precisare Che qualsiasi Soluzione Che consenta L'accesso Allo stadio Di tifosi Abbonati Nel settore In cui È stata Disposta La chiusura Implica La consapevole Illusione Da parte Della società Di norme Vigenti E del Provedimento Del giudice Sportivo Ed La stessa Contestazione Da parte Delle autorità Statali E sportive Nella Fattispecie Non potendo Adottare Linee di comportamento Che hanno Scelto altre società In situazioni Di fatto Diverse Abbiamo ritenuto Che l'unica Soluzione Prospettateci E cioè L'accessione Del titolo D'accesso Allo stadio Del settore Chiuso Ad altro Soggetto Che avrebbe Quindi Consentito L'acquisto Di un biglietto Ad altro settore Da parte Dell'abbonato Rappresentasse Nient'altro Che un'illusione Del provvedimento Del giudice Sportivo E rimaniamo Al calcio Amaranto Ma al femminile Siamo alla vigilia Di un altro Match importante Del calcio Amaranto Le ragazze Della CF Di Mr. Mike E Racleus Sono impegnate Domani Domenica 4 febbraio All'ore 14.30 Allo stadio Soprani Di Ravenna Contro la squadra Di casa Per la sedicesima Giornata Di campionato Di Serie B La prima Del girone Di ritorno Il Ravenna Si è rafforzato Portando in rosa Sei nuove Calciatrici E ha raglennato Molti punti Preziosi In queste ultime Settimane L'Arezzo Secondo ciò Che ha comunicato Mr. Racleus Sta lavorando Sugli errori Commessi a Bologna Cercando di Concentrarsi Perché le avversarie Sono tenaci Nella CF Non ci dovrebbero essere Assenze importanti Intanto Prima convocazione Per Laura Buono Difensore Della formazione Under 17 Amaranto Terminiamo con il Basket Nona di ritorno Per la SBA Il BCL di Lucca Ospiterà domani 4 febbraio La squadra Amaranto La squadra lucchese Fu eliminata Proprio dalla SBA Nei playoff Grazie a un Fornare In stato di grazia Che immancabilmente Sul suono Della sirena Umiliò Il BCL Chiudendo il match Di una sola lunghezza Sia all'andata Che al ritorno Oggi le parti Si potrebbero Definire Invertite Chi rischia maggiormente Di finire O meglio Di rimanere in zona Playout Il quintetto Aretino A quota 16 punti Contro Il 22 Del BCL Per questo I ragazzi di coach Evangelisti Si presenteranno Al pala tagliate A guerretissimi Con il coltello Fra i denti Per la SBA Una sconfitta A due giornate Dal termine Sarebbe un grosso problema Per la classifica Ed il morale La SBA In trasferta Ha vinto una sola volta Su nove Il BCL In casa Ha sette vittorie Su nove Sul suo score In casa lucchese Trentin Non è al 100% Per una distorsione Della caviglia Ma sarà comunque A disposizione Mentre sarà Assente Barbieri Appuotamento Quindi alle 18 Di domani 4 febbraio Arbitreranno L'incontro Marinaro Michele Di Pisa E Parigi Mattia Di Firenze Questa era l'ultima notizia Per questa sera Grazie per averci seguito A voi tutti Buona serata Con i programmi Di Arezzo TV Di Arezzo TV